Tanti conoscono la Toscana e tanti non la conoscono. Io con queste musiche e queste immagini cerco di scolpire ciò che in me anima la figura dei miei luoghi, della Valdera e del Valdarno. La Toscana è certamente molto di più di ciò che possa la mia mente, i miei scritti o le mie immagini. Per questo è giusto che questa porta sia aperta con la chiave del mondo, perché tutto ciò che è nel mondo è grandiosamente bello e importante per chi lo vive, specialmente in chiave dell'abitudine. Infatti sa da dire che sono tutti belli i fiori del mondo, quelli che nascono al nord, quelli che nascono al centro e quelli che nascono al sud. Io parlo dei miei perché ci sono affezionato, ma è vero che il mondo è pieno di luoghi dove quei fiori bellissimi nascono solo lì. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti.